Sono partite già da ieri le indagini per individuare tutti i ragazzi coinvolti nei fatti di Sant'Orso. Sabato sera i vigili urbani hanno identificato 10 minori e chiamato i relativi genitori. Tre di loro detenevano materiale esplodente, la cui vendita è vietata ai minorenni. Inoltre un ragazzo è stato denunciato per oltraggio pubblico ufficiale. Cinque giovani sono stati multati perché senza mascherina e altri quattro verbali sono stati elevati a chi girava in motorino e bicicletta, violando le norme del codice della strada. Dopo aver visto le immagini pubblicate su Facebook da Fano TV, l'assessore Barbara Brunori ha sottolineato la mancanza di educazione e di rispetto per le persone e le cose. Ieri mi sono recata proprio sul quartiere qua di Sant'Orso per verificare lo stato del quartiere, quindi di disordine, ma anche dare vicinanza ai residenti, tanto che ho trovato tanta gente qui sui parchi preoccupata e ho capito che hanno passato veramente una nottata abbastanza difficile e sono rimasti offesi da questo gesto perché alla fine è stato un gesto che noi come amministrazione non possiamo ricevere, ma nessuno può ricevere un gesto di questo tipo. Per cui come assessore alle politiche giovanili, al decoro, ma anche alla partecipazione, mi metterò in moto con l'assessore Tinti e l'assessora Cucchiarini per far sì che innanzitutto venga ripreso quello che è il progetto della casetta di restauro attraverso un progetto sociale di coinvolgimento dei giovani, ma anche per trovare delle nuove formule di copartecipazione dei giovani affinché questi spazi vengano presidiati e mantenuti in buono stato. Mi è spiaciuto molto ieri mattina proprio vedere dei bambini qua che rammaricati perché gli hanno danneggiato delle cose su cui loro giocavano, tanto che noi come amministrazione ci avevamo così investito da fare un quartiere a misura di bambino. Quelle risorse, ha detto Brunori, sono di tutti i fanesi e ora i responsabili dovranno risarcire i danni. Eppure, ha proseguito, ci troviamo in un periodo storico dove la priorità è la salute e queste cose per rispetto non dovrebbero accadere. Nei giardini di fianco al campo da basket, c'è anticipato, verranno installate le telecamere. L'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini ha invece ribadito le operazioni di prevenzione eseguite dal comando, così come il potenziamento dei servizi per lo scorso fine settimana. Abbiamo avuto luogo una vera e propria guerriglia urbana, fatta agita da tanti ragazzi giovani e giovanissimi, direi anche quasi bambini, ragazzi di 10, 11, 12 anni. E questo è abbastanza grave. Voglio esprimere innanzitutto solidarietà a tutti i cittadini del quartiere di Sant'Orso, perché veramente dalle tante testimonianze si sono sentiti prigionieri dentro casa propria di queste dinamiche che non sono affatto divertenti, ma che hanno proprio a che fare con atti veri e propri di vandalismo. I fatti non rimarranno impuniti e gli autori verranno individuati come sono già in parte stati individuati, ma direi che ci sono operazioni molto importanti come quelle educative e sociali che devono avere luogo, perché qui c'è un vero e proprio disagio sociale.